Parliamo di questa partita condotta da breganze, ovviamente passaggio del turno meritato, stasera avete controllato e avete avuto soprattutto l'atteggiamento giusto. Sì, come è all'andata abbiamo fatto una buona partita, siamo riusciti a indovinarla, siamo riusciti a concretizzare bene. Oggi è stata un po' meno facile, diciamo così, anche se l'andata non è stata per niente facile. Abbiamo trovato uno scandiano veramente volenteroso di voler a tutti i costi riempire il gap che avevano. Non è stata per niente facile, infatti si è arrivati fino agli ultimi secondi lì lì. Per noi, anche se non era una vittoria importante dal punto di vista del risultato del passaggio, era importante per noi, per continuare il nostro percorso di crescita, perché partita dopo partita stiamo migliorando veramente in una maniera, per me, impressionante. Stiamo dimostrando maturità crescente e niente, quindi era importante per continuare così. Ecco, abbiamo visto un atteggiamento mentale giusto, l'abbiamo detto, quindi avete vissuto questa settimana, siete arrivati, ho visto anche già del risultato del momento molto tranquilli e molto sereni, questo ha aiutato. E poi vi ho visti anche molto rimigliorati rispetto all'anno scorso, che eravate già una grossa squadra. Sì, ripeto, dall'anno scorso c'è stato veramente un grandissimo miglioramento da parte di tutti. Ovviamente arrivare qui con questo risultato precedente, che ci metteva in bel vantaggio, ha permesso di arrivare ovviamente a mente più leggera. Ovviamente ci siamo ribaditi più e più volte in spogliatoio di non abbassare la guardia, perché sappiamo che squadra è lo scandiano e puniscono se vengono lasciati troppo a fare. Grazie e complimenti. Grazie a voi.